Finalmente tornerà ad aprirsi il sipario del Teatro Comunale di Sulmona Maria Caniglia, chiuso ormai da circa un anno per la nota pandemia. A partire dai giorni 27, 28 e 29 marzo prossimo inizierà un'importante stagione teatrale già programmata. Attori famosi calcheranno la scena del Caniglia. Purtroppo mancherà una componente importante, essenziale di ogni spettacolo, il pubblico. La stagione inizierà con una rappresentazione di grande successo, Ion, per la regia di Dino Lopardo. Lo spettacolo vincitore del Festival di Venire per il Teatro 2019 a Roma come migliore spettacolo sarà registrato presso il Teatro Comunale di Sulmona e successivamente trasmesso in streaming sulla piattaforma UcEvents. Come si svolgerà lo spettacolo? Ne parliamo con il direttore artistico della stagione di prosa, Patrizio Maria d'Artista, un giovane artista musicale sulmonese, compositore, produttore e musicale, ormai noto nel mondo dello spettacolo in campo nazionale. Tornerà ad aprirsi il prossimo 27 marzo, in occasione della giornata mondiale del teatro, il sipario del Teatro Maria Caniglia di Sulmona, finalmente, dopo un anno di stop di tutte le attività del settore dello spettacolo dal vivo. Un atto dovuto verso le maestranze dello spettacolo, verso gli attori, i tecnici, ma anche verso il pubblico affezionato del teatro e la cittadinanza tutta. Vi chiediamo di contribuire e di sostenere questa ripartenza acquistando il biglietto di accesso allo spettacolo sul sito OEvents. Basterà digitare ION o Teatro Maria Caniglia, oppure potrete accedere al sito www.teatromariacaniglia.com, visitare la scheda informativa dello spettacolo e seguire poi la procedura guidata per l'acquisto dei biglietti. Auspichiamo di potervi accogliere presto nella meravigliosa cornice del Teatro Comunale di Sulmona, quanto prima. Per adesso vi auguriamo una buona visione.